Un nuovo importante appuntamento attende il giovane shooter di Villa Mare, Luca Broeg. Dal 7 al 9 giugno, il 28enne parteciperà gli europei di IDPA, l'International Defensive Pistol Association, che si svolgeranno a FOT in Ungheria. La competizione vedrà protagonisti 450 tiratori provenienti da tutta Europa, di cui 60 italiani e tra questi c'è proprio il giovane Villamarese. Una passione nata da bambino grazie al papà e che lo sta portando a girare il mondo competizione dopo competizione. La preparazione a questa tipologia di gare verte su tre aspetti fondamentali. La parte atletica, che curo in palestra. La parte a fuoco, a seconda del tempo che ho a disposizione e quindi da quanto mi manca per quella gara, cerco di strutturarla in diversi modi, andando prima a lavorare sulle singole capacità per poi metterle tutte insieme in un unico esercizio. La parte invece in bianco è altresì fondamentale perché permette di automatizzare determinati movimenti che mi permetteranno poi di recuperare qualche decimo di secondo che poi faranno la differenza sugli avversari. L'europeo in Ungheria, che prevede 14 stage, dunque 14 esercizi da effettuare nell'arco di una singola giornata, non è la prima finestra internazionale del tiro dinamico difensivo a cui si affaccia Luca. Nel 2022, infatti, ha partecipato al campionato europeo svoltosi a Latina, piazzandosi nono, mentre lo scorso luglio si è classificato ottavo al mondiale in Alabama, che ha condiviso a fianco delle icone di questo sport. È per tutti, ma non lo è, nel senso che occorre avere comunque il porto d'armi prima di poter iniziare e poi, come in tutti gli sport, tanta passione e spirito di sacrificio.